Tre donne, uomini di esperienza e un nuovo presidente, stamattina al Foritali con la prima giunta nazionale del CONI nell'era Malagò. Questioni formali e burocratiche da sbrigare come la calendarizzazione del programma delle prossime riunioni, che spiega il numero uno del circolo canottieri aniene, si svolgeranno di norma il secondo martedì di ogni mese. Il 10 dicembre tutti a Trento alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Universia di Invernali, un evento a cui il presidente sembra tenere molto. Abbiamo una serie di manifestazioni internazionali, ma sicuramente l'apice è l'Universia di 11 dicembre, Trento, Sergio Anesi, membro di giunta che peraltro è il nostro referente per gli sport invernali, vicepresidente della fazione Ghiaccio, responsabile della velocità, è il presidente dell'Universia di e faremo una giunta straordinaria a Trento, ma questo non sarà solo una prerogativa dell'Universia di. Se fosse possibile sarebbe bello che le giunte si spostassero sul territorio proprio per far vedere che ci siamo. Dopo ampia e condivisa discussione è stata approvata la ripartizione dei contributi alle federazioni sportive nazionali. Secondo me è un atto dovuto, più che aspetti diciamo di cassa, riguardava l'impostazione del bilancio preventivo delle federazioni, quindi sapere esattamente come dovevano impostare l'attività sull'esercizio 2013 e dopodiché con un attimo di calma verificheremo se tutti i criteri con cui si è portato avanti la dinamica di questi parametri sia la migliore e la più giusta. Sono state affidate inoltre alcune deleghe ai vari membri di giunte dopo aver ascoltato la relazione del presidente Giancarlo Abete è stata poi approvata la modifica all'Enoif della Federcalcio in linea con quanto deciso dal Consiglio federale. Da calendarizzare a sorpresa anche i festeggiamenti del centesimo anniversario del Comitato Olimpico Nazionale. Il 9 e 10 giugno del 2014 il Coni compie 100 anni perché sembra proprio in quella nottata si fondò, si istituì il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che abbiamo parlato anche oggi bisogna pensare a qualche cosa che ricordi una data secondo me storica non solo per lo sport.